Buongiorno a tutti ragazzi da Zebra. Juventus chi incontrerà negli ottavi di Europa League? Il Friburgo. Ebbene sì ragazzi, dall'urna esce il Friburgo. Occhio a questa squadra. È una squadra che nel campionato tedesco è quarta, con 40 punti, ha 3 punti dalla prima, o no, dal Bayern Monaco. Quindi ragazzi, è una squadra da non sottovalutare. Anzi, è peggio, è peggio del Nantes, sarà ancora peggio. E vista la partita in casa contro il Nantes, se dovessimo giocare in quel modo, credo che molte speranze non le abbiamo contro questo Friburgo. Sì ragazzi, poteva andarci peggio, sì, c'è l'Arsenal, Manchester United, ma non solo, ci poteva anche andare ancora meglio. Però va bene così ragazzi, va bene così. È una partita da 180 minuti che bisogna aggredire immediatamente. Potremmo avere un Pogba in più, un Chiesa in più, con un Di Maria. Chissà, una Juventus diversa, una Juventus totalmente all'attacco. Però con Massimiliano Allegri totalmente all'attacco. È un qualcosa che non va molto di moda, diciamo così. Bene sì ragazzi, è una squadra che nel proprio girone ha avuto anche il Nantes. In casa del Nantes è andata a strapazzare la 4-0 e in casa propria 2-0. Questo vi fa capire, questo è un documento di riconoscimento di questa squadra che non bisogna assolutamente sottovalutare. È importantissimo, importantissimo. Ragazzi, che dire, squadra che ha un misto un po' di tutto, un po' di gioventù, gente un po' più esperta. Però io credo che con le caratteristiche che hanno, perché questa squadra ragazzi è un po' traballante lì in difesa. Quindi se dovessimo avere una squadra al completo, ripeto, al completo, Pogba, Chiesa, Di Maria, Vlaovic. Beh ragazzi, lì davanti potremmo creare veramente dei pericoli. È una squadra che comunque, ripeto, come ho detto prima, portare rispetto. Però ragazzi, parliamoci chiari, con i valori in campo di regola, e parlo di regola, non dovremmo avere dei grandissimi problemi. Però ho i miei dubbi, ho i miei dubbi, conoscendo la nostra Juventus. Che a livello di gioco, purtroppo, non voglio dire che è scarsissima, ma a me non è così messa bene. Diciamo così, non è messa bene. È su questo punto debole che le altre squadre possono fare pressione. Cioè, abbiamo visto bene che il Nant in casa nostra, con una ripartenza in difesa, coprendo a quattro, ci ha segnato su quella ripartenza. Quindi, occhio, occhio a essere compatti, a cercare di far girare un po' la palla velocemente. Credo con una difesa così traballante come quella del Friburgo, potremmo avere molte, ma molte possibilità. Soprattutto se abbiamo un Di Maria allo stato puro, puro. Questo è tutto, ragazzi. Ditemi come la pensate, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Un saluto da Zebra. Ciao.